Proponiamo in vendita un appartamento di 70 metri quadrati, molto luminoso. Si dispone su due livelli. Al primo piano soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno con doccia e una scala posta a destra dell'ingresso che conduce al secondo piano. Un ampio terrazzo, al secondo livello una camera da letto con armadio a muro, un bagno con vasca e un terrazzo panoramico.